Vi racconto un altro episodio simpatico, sempre in moto e sempre nell'est europeo. Chi era con me lo ricorderà senz'altro. Stavamo viaggiando con un gruppo di moto dal Montenegro in Albania. Arrivati alla dogana, ho visto che non c'era nessuno, sono sceso dalla moto e sono andato a bussare alla porta del doganiere montenegrino. Questo è uscito e mi ha detto cosa vuoi? Non c'è nessuno, volevo passare, dove vuoi andare? In Albania, da questa parte qua, si va in Albania. Mi ha detto cazzo i vostri, proprio detto in italiano. Mi ha detto ma possiamo passare così, noi controlliamo soltanto quelli che dall'Albania vengono qua. Salgo in moto e lui a un certo punto si fa serio e mi dice fermala, ci conta, guarda quanti siamo. Entra in dogana, esce fuori con un pacco di tavoletti di cioccolato, se ne do una a ciascuna, dice buon viaggio perché poi magari laggiù non vi danno da mangiare. Questo è per dire la considerazione che c'è tra i due popoli. Arrivo alla dogana dell'Albania, dove invece il doganiere rappresenta un Marcantonio alto un metro e novanta, come quasi tutte le popolazioni balcaniche, state di persone belle corpulente. Mi guarda e mi dice di dove siete? Dico, ma è dell'Italia, Piemonte, provincia di Cuneo. Allora gli dice, oh che bello, guarda ho dei parenti laggiù in Italia e particolarmente io proprio in Piemonte. Così iniziamo quattro parole, spesso gli albanesi parlano italiano, è stato abbastanza semplice capirsi. E poi mi dice un po' accigliato, ma cosa vi ha detto il doganiere montenegrino dell'Albania? Ho detto nulla, non ha detto nulla. Lui mi guarda un po' sospetto, poi mi dice, ma vi ha dato qualcosa? Ho detto, guarda, il doganiere ci ha dato del cioccolato. Si ferma, mi guarda, mi dice, aspetta un attimo. Ma il doganiere esce fuori con una cassa di Red Bull, ce ne dà due ciascuna, tutti i motociclisti, risaliamo in moto, partiamo e via. Ovviamente si tratta di merce che prendono i camionisti di passaggio, però è un episodio molto simpatico, divertente, anche in questo caso che riguarda la difficile convivenza tra i popoli di confine. E ovviamente si è risulta bene, tra l'altro in Albania noi siamo sempre andati benissimo con le moto. L'unico problema è il traffico, che è abbastanza scorretto e così certe volte crea qualche problema. Bisogna stare un po' attenti, specialmente nelle grandi città, in particolare Durazzo, Scutari e soprattutto Tirana.